Sì, sì. Dove che vuoi? Ascoltami, questo è importante. Hanno riaperto una casa chiusa. Hanno riaperto una casa chiusa? Prima era chiusa, poi era aperta. Hanno riaperto? Hanno riaperto una casa chiusa. Ci stanno certe donne. Meravigliate. Cioè, ma certe donne a pezzi stracciatissimi. Mi sono le migliori veramente in giro. Ma ciò ci sei stato? Mamma mia. Cioè, no. Viene che l'ho detto che è un bel posto. Ma perché non ci andiamo? Andiamoci un partito. Non lo vittiamo, stati spalti. Guarda, lo vedi là? Sì, sì. Quella è l'entrata. Quella ce l'ho prima io, fammi andare prima. Facciamo la punta, eh. Ok, ho vinto io, vado io. Non andando fa. Eh, ho vinto. La fa mandata, non lo tocca. La quinta. Qua mi devi dire, con chi sei stato? Non mi può riepare. Non ti lo preoccupare. Vado, eh. Ok, ti aspetta qua. E da quanti anni che? No, veramente non riprovavo. Una sensazione del genere. Rirondare in una casa che... Ah, già hai fatto. Eh, perché corro un po' veloce. C'è la crisi, eh, sì. Eh, ma sinceramente, Raffan, non è che era tutto sto granché che ti diceva. No. Sinceramente è meglio mia moglie, eh. Ti lo dico. Ti abbiamo sprecato il tono. Sì, sì. È meglio mia moglie. Cioè, io... Ma la mamma, fatta facciamo, ma è meglio mia moglie. Poi vediamo. Vediamo cosa mi dice, ma... Non è che era sto granché. Oh, è Peppe. Samba Brigitte. Che stai facendo? Eh, mamma, mamma. Fate luce, fate luce. E che cosa? Eh, non è che tu scherzi quei tempi, eh. Fasting Furious. Ciao. Oh, dimmi il tuo. Già mi vira giù. Hai visto? È meglio tua moglie. Ma io... 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 Ma io...